ah ma allora funzioni a grandissima richiesta cinzia 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 porca dessa città l'unica che fa l'imboconotti che tanta e tanta gente se vuole fa fa mazzas! che fatica sono sputato allora mamma mia ragazzi finalmente non so come ho fatto a rimetterlo in vita io vi chiedo come sempre anzi al raggiungimento dei 3000 mi piace su questo video nell'esatto momento sappiate che arriverà subito un nuovo contenuto molto probabilmente insieme al buon Fabio quindi sbrigatevi a lasciar mi piace perché ve ne devo di tantissime qui ovviamente mi limiterò ad alcune bombe di calcio mercato ma capite bene che stiamo entrando nel vivo ne escono 400 al giorno dipende tutto da voi bentornati e ben ritrovati iscrivetevi mi raccomando e attivate la campanella più del 40% di voi su questo canale ancora non l'ha fatto vi perdete le notifiche vi perdete le notizie le bombe di calcio mercato le indiscrezioni le nonne e le zie fatelo anche sul primo canale non ci ho più le date una volta scusa ma non è che era l'acqua dei pappagalli questa vabbè fatelo anche sul primo canale youtube mi raccomando non costa niente ho pure un canale extra calcio avete visto che sto pubblicando un sacco di roba canali in descrizione o compariranno qui durante il video devo abbassare la voce perché se non sentite in bacello Napoli, Inter, Milan, Juve, Roma, Lazio, Atalanta, Fiorentina e nonne, zie indiscrezioni clamorose bombe, bombette bombolotti bobo, conotti allora voto come cantante qui sotto nei commenti scrive con l'hashtag indovina indovinello partiamo da quello ci ho fatto pura rima non era facile però qualcuno di voi è stato particolarmente attento qualcuno di voi sul calcio mercato insomma non gli sfugge nulla avevo detto il Torino ha comprato un portiere rumeno classe 2000 e più di qualcuno di voi ha indovinato mi hai popopa 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 si parla veramente molto bene di lui ovviamente va a completare il reparto con Vanja Milinkovic-Savic che ha da poco rinnovato quindi secondo me fa bene il Torino ma in generale le squadre fanno bene a puntare sui giovanissimi dare spazio alle nuove leve per ipoteticamente ritrovarsi un buon giocatore per il futuro c'ha in numerità la sua sto ragazzo è molto interessante serve la personalità deve dimostrare in palcoscenici importanti come la serie A come la serie A come la serie A il popettone quando sarà chiamato in causa di Valere e ok nuovo indovina indovinello ragazzi non potete capire che cosa sta succedendo perché il Bayern Monaco ha messo gli occhi su un centrocampista da Fiorentina che tramite un tweet tramite un post sembra praticamente aver annunciato l'addio un centrocampista della Fiorentina non un centrocampista qualunque io vi dico solo mondiale mondiale di quest'inverno novembre quando c'è stato il mondiale non mi ricordo di chi stiamo parlando lascio cuore a chi indovinerà e ovviamente poi diventerà la prima bomba di calcio mercato del prossimo contenuto quindi ditemelo qui sotto nei commenti ve lascio cuore mo ragazzi qua veramente dobbiamo entrare nei meriti di 2785.000 cose io partirei rapidamente dalla Salernitana e partirei dal fatto che DA verrà riscattato al 250% quindi preparatevi che non verrà riscattato perché dico una cosa io e se verifica al contrario ma vogliono non solo riscattarlo ma togliere la clausola rescissoria da 25 milioni di euro perché? perché vale di più di conseguenza capite pure bene che c'è un mercato perché DA insomma per quello che ha fatto in Serie A in questa stagione si è messo in mostra già lo conoscevamo conoscevamo quelle che sono le sue le sue caratteristiche però ecco la Salernitana punta ovviamente a riconfermare i giocatori più importanti e ovviamente poi ne parleremo durante tutta questa estate delle possibilità no? acquisti indiscrezioni da parte della Salernitana passiamo all'Atalanta passiamo all'Atalanta e poi andiamo ai botti quelli più pesanti perché innanzitutto l'ipotesi della permanenza di Gasperini è stata confermata al 100% Gasperini resta fino al 2025 e addirittura ha l'opzione per il 2026 quindi secondo me è la mossa più importante dei percassi prima dei muoviti sul mercato hanno capito che comunque con Gasperini ragazzi seppur c'è stata una piccola stagione in cui fuori dalle coppe ma stanno ritornando con quel progetto seppur giocano in maniera differente un po' più a sprazzi però raga ma in questo determinato momento storico cambiare Gasperini e prendere qualcun altro li può portare nel baratro perché secondo me tante responsabilità in positivo ci sono da parte dell'allenatore che ha avviato piano piano un progetto e comunque lo sta portando in alto c'è da dirlo assolutamente quindi questa era la prima mossa fatta questa si pensa al mercato si sta pensando c'è chi dice è fatta io non ho trovato conferme definitive in merito però Hien il calciatore difensore centrale del Verona il 24enne fisico bello imponente possente e via dicendo si appresta questo è quello che stanno dicendo se già non è accaduto a diventare un nuovo calciatore dell'Atalanta l'Atalanta che ovviamente ragazzi è un minimo la difesa deve svecchiare perché Toloi perché Palomino perché Jim City per quanto poi Scalvini non si sa se resterà voci del mercato in merito insomma è una situazione nebulosa l'Atalanta deve ripartire da qualcuno mi sembra il classico giocatore dell'Atalanta che arrivato all'Atalanta può fare veramente i botti con Gasperini staremo a vedere speriamo per loro in positivo la Lazio passiamo al mercato della Lazio Lazio che ovviamente programma il calciomercato futuro senza i glitare quindi probabilmente assisteremo a delle situazioni differenti profili un po' più particolari per il momento verranno dati più poteri a Sarri fatto sta che vogliono ascoltare l'allenatore perché poi se ascolti l'allenatore gli prendi quello che te chiede poi sul campo insomma non sempre quello che te chiede l'allenatore poi riesce a tramutarlo sul campo in positività però intanto secondo me è un passo in avanti Jetson Fernandez ragazzi del Besiktas centrocampista molto interessante a mio modo di vedere che ahimè la tifoso della Roma con Sarri potrebbe fare fare il salto di qualità quindi Lazio che sta studiando le prime mosse di calciomercato per la prossima stagione hanno bisogno di rinforzi un po' dappertutto da quello che ho capito perché Sarri chiede più di qualche tassello ovviamente in base alle disponibilità economiche della Lazio però numericamente qualcosa vuole che entri ovviamente parlando passiamo alla Roma perché c'è una doppia notizia in realtà la prima è che dovesse partire Svilar Svilar chiamatelo come vi pare e non ho capito per quale motivo c'è chi dice forse per farlo crescere in prestito perché nelle ultime partite hanno visto insomma che è abbastanza decente la prossima stagione giocherà ancora Rui Patrizio da titolare quindi volendo farlo crescere lo c'è di in prestito e prendi una pezzaccia questo stanno dice pezzaccia per modo di parliamo di Kakir del Trabzonspor quindi vediamo se Svilar partirà in prestito addirittura a titolo definitivo c'è chi dice no perché la Roma deve fare 30 milioni entro il 30 giugno quindi si devono sbrigare monetizzare 5 di qua 10 di là 20 di là devono in qualche modo o con una botta secca o con più tacche arrivare il settlement agreement financial fair play le nonne le cugine zie va benissimo poi ma non ve l'ho fatto l'indovina indovinello chiedo scusa ragazzi mi sono dimenticato l'indovina indovinello non ve l'ho fatto assolutamente no ah no no ve l'ho fatto ma che sto a dire scusate ragazzi non la stanchezza il sogno allora passiamo alla Juventus passiamo alla Juventus perché urge rinforzare le fasce tra un alexandro che ha ecco ve lo dico immediatamente è scattato il rinnovo automatico ma si punta alla risoluzione c'è chi dice che in realtà è già fatta la devono solo ufficializzare o magari sarà già stata ufficializzata e me è sfuggito però alexandro ragazzi onestamente parlando non è più quel calciatore la Juventus cerca di rinforzarsi deve pensare al futuro liberano slot anche dal punto di vista dello stipendio ovviamente si stanno puntando per le fasce esterne Singo ovviamente del Torino e Olm dello Spezia Olm è giocatore molto particolare molto interessante dice ammazza ma Juventus si è ridotta a Singo e Olm una volta faceva i colpi Dani Alves ragazzi dipende dal determinato periodo storico ovviamente sappiamo quello che è successo alla Juventus dal punto di vista economico ma un po' tutti i club non è che stanno passando questi grandissimi momenti si fa un calciomercato in base a quelle che sono le proprie disponibilità secondo me Olm sarebbe veramente in colpo di quelli pazzeschi Singo non mi dispiace ma Olm è un giocatore secondo me veramente il giusto connubio tra tutto quello che serve in un calciatore di quel ruolo detto questo Milano e Roma qua praticamente vanno a braccetto vanno de pari passo perché il Milano ha puntato Tielemans 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 non lo so alla fine se verrà in Serie A se verrà alla Roma se andrà al Milan però insomma sono delle ipotesi che stanno prendendo sicuramente piede io alla Roma ce lo vorrei veramente tutta la vita non so se si ufficializzerà nel giro di poco alla Roma o al Milan o altrove ce n'è un'altra sul Milan e ve la dico tra pochissimo ma prima passo all'Inter che vuole rinforzare il proprio attacco vuole sbarazzarsi in maniera ovviamente sportiva non pensate mai di Correa perché non sono soddisfatti pienamente lo stesso Inzaghi che aveva fortemente puntato su di lui che lo aveva fortemente chiesto addirittura giocatore che ha costato di più perché Lukaku è arrivato in prestito nella sessione estiva del calciomercato 23-25 qualcosa del genere ha fruttato poco quindi te devi libera di Correa devi trovare qualcuno che tu compra e ok ma l'Inter sta puntando Luque Bacchio il classe 97 dell'ERTA Berlino che è retrocesso tra l'altro e che in questa stagione ha fatto 11 gol calciatore di una duttilità clamorosa barra pazzesca barra esagerated credo che lo sappiate può giocare come prima punta può giocare sugli step può fare praticamente ed è tutto forse è proprio il profilo il tassello che si può andare ad inserire per sostituire Correa parliamo rapidamente di Napoli perché questa è una cosa che dobbiamo assolutamente accennare e poi ripassiamo al Milan non è vero già ve l'avevo detto quello che diceva De Laurentiis no a noi italiano non interessa non è nella lista ho trovato da 22 sono diventati 40 i nomi diventeranno 175 l'interesse per l'italiano c'è bisogna capire Napoli in buoni rapporti con la Fiorentina non vogliono rovinare il rapporto ovviamente cercando di no però vogliono capire se ci sono i presupposti da parte d'italiano con la sua volontà che poi è la cosa che più conta ovviamente per ipoteticamente parlare e programmare di un futuro mettetevi nei panni di italiano comunque ti chiama al Napoli che ha vinto lo scudetto ti chiama per sostituire Spalletti e c'hai uno stile di gioco simile a Spalletti diverso ma simile mettiamola così per lo meno per dettami tattici per lo meno per grandi linee è ovvio che è un pensiero minimo ce lo fai poi bisogna capire bisognerà capire se il Napoli punterà fortemente su De Lui perché De Laurenti ci stanno 40 nomi quindi proverà a chiedere un po' de qua e un po' de là e poi in base alle disponibilità che riceverà sceglierà ipotizzo io staremo a vedere però insomma roba roba sicuramente pesante il Milano ha puntato Ciukwese Ciukwese se così si pronuncia tanto non sono mai riuscito a pronunciarlo più lo ascolto e più lo ripeto a caso mio del Villareal giocatore giovane interessante profilo che può rinforzare ecco il Milan gioca a destra gioca a sinistra gioca sulla tre quarti praticamente fa un po' de tutto e voi capite bene che comunque Brahim Diaz tornerà a Real Madrid e rinnoverà da quello che ho capito se non me sbaglio di conseguenza Ancelotti vuole puntare su Brahim Diaz e il Milan mancante a sello lo deve sostituire si sta pensando proprio a Ciukwese vedremo se sarà lui il predestinato il prescelto oppure se chi lo sa quello che accadrà il Milan però ha bisogno aveva già bisogno di rinforzarsi prima dell'addio di Brahim Diaz figuratevi figuratevi adesso e poi ragazzi che vi dico io qua la situazione Kvara la situazione Kvara che sta prendendo piede ha tantissimo mercato lo vogliono tutti i migliori club di Serie A no direi una cavolata perché seppur qualche club ovviamente osserva e sonda la situazione ma De Laurentiis non lo cederà mai ad una diretta concorrente visto che hanno vinto con loro lo scudetto però all'estero c'è mercato all'estero te darebbero pure un sacco di soldi ma l'idea De Laurentiis è quella di monetizzare con un singolo top in realtà due perché su Kim c'è la clausola rescissoria e quello è un altro discorso ma monetizzare nel frattempo come sempre a me si scarica la batteria con un altro top si sta parlando fortemente di Ozyman ma la richiesta è altissima e preservare Kvara Kvara preservarlo a tutti i costi si vuole fare uno sforzo per Kvara nonostante non è che c'è il contratto che gli scade in questa stagione ma va adeguato va adeguato e qua devi andare incontro a quelle che sono le esigenze del calciatore perché dice da altre parti il Real il Barcellona il City e qui il PSG mi offrirebbero 20 milioni all'anno mo sto di una cavolata 12 13 10 e tu comunque mi dai 1 e mezzo quindi stanno provando il Napoli si parla di un adeguamento di contratto di un ulteriore rinnovo con adeguamento rinnovo fissato fino al 2028 e passerebbe da 1,5 milioni che percepisce attualmente a 3 quindi comunque gli raddoppi lo stipendio che non sarà mai quello che percepisce da altre parti poi non so se metterà una clausola rescissoria perché poi De Laurentiis insomma Kim così si può inventare qualsiasi clausola a 300 milioni arriva qualcuno che gli apaga e sta a posto così difficile ma non impossibile viste le prestazioni di Kvara all'interno di tutta la stagione non aggiungo altro perché so 15-16 minuti che sto a parlare se volete altre bombe l'obiettivo per sbloccarlo è 3000 mi piacciono appena arriveranno ve ne pubblico subito in alto e preparate perché c'è un sacco di roba da tib grazie per la visione grazie a Cinzia grazie al K grazie alla grazie a Grazia e ci vediamo alla prossima con un nuovo video vivo i microfoni che rifunzionano ciao